Chi è il vero nemico da battere secondo lei? È più il centrodestra di Berlusconi e Salvini, sappiamo che lei con Salvini non va molto d'accordo, oppure sono i 5 Stelle? Chi la preoccupa di più? Sono gli incapaci e gli estremisti e quindi negli incapaci ci metto il Movimento 5 Stelle e negli estremisti ci metto Salvini della Le Pen. Ma secondo lei chi è più insidioso per il centrosinistra? Io li vedo entrambi possibili alleati, tutti dicono che questa cosa è impossibile, ma io li vedo, cioè sento proprio una sintonia tra la Lega e il Movimento 5 Stelle. E quindi per converso sente una sintonia altrettanto naturale tra Berlusconi e il PD. Sicuramente ci sono... C'è l'ipotesi di una grande coalizione? Secondo me in questo momento, considerando il caos italiano, le ipotesi sono tutte autoreferenziali. Prima bisogna fare la campagna elettorale, bisogna vincere. Ma come formula politica lei... No, no, ma le dico, io vedo, ed è il motivo per cui ho fatto determinate scelte in questi anni, vedo da una parte un blocco che possiamo definire normalizzante, nel senso che ha, a provaso lei diceva i moderati, persone che ragionano, cioè il tema della ragionevolezza. Dall'altra parte vedo la rabbia, la rabbia contro tutto, lo Stato, l'Europa, l'antistato, la scienza, le istituzioni, molto odio, molto odio.